E adesso parliamo di coronavirus, seguiamo insieme gli ultimi dati aggiornati del bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 32.299 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 5.352 nuovi casi positivi, 9 sono i decessi accertati. I casi attualmente positivi sono 111.314, mentre 679 sono le persone ricoverate in area non critica e 38 quelle in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 8.054 in totale le persone decedute in Puglia.